In un mondo che è sotto attacco dagli zuccheri, tanti zuccheri e ancora più zuccheri, c'è un nuovo eroe tra i dentifrici e nel posto giusto al momento giusto. Potranno gli zuccheri reggere il confronto. Arriva, Capitano Aquafresh. Prossimamente nei vostri bagni. Contiene scene inedite di igiene orale, tutine molto attillate. Grazie.